19. A che cosa sono dovute le proprietà caratteristiche dei metalli? Le caratteristiche dei metalli sono dovute alla mobilità degli elettroni di valenza in quanto gli elettroni di valenza tengono uniti tutti i cationi nel momento in cui per una forza che agisce meccanicamente si provoca lo spostamento lo spostamento dei cationi viene consentito perché gli elettroni fluidi che si muovono tra di essi continuano a mantenere in attrazione trattenuti vicini i metabili per cui si viene interpretata così la duttilità e la malleabilità cioè il fatto di riuscire a ridurli in fili o in lamine sottili cosa che non avviene nel legame ionico dove le cariche di segno opposto in cui vengono spostate da una forza che agisce portano ad avvicinarsi negli strati successivi le cariche dello stesso segno che quindi le forze attrattive diventano repulsive e il cristallo ionico si sbriciola grazie a tutti